Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Dragon Ball Xenoverse. Oggi vi farò vedere un'altra missione parallela con il terzo DLC che abbiamo sbloccato. Allora, andiamo a vedere cosa ci aspetta. Allora, intanto io voglio piccolo come insegnante. Certo, piccolo, sono qui. Ok. Allora, stavo dicendo, andiamo a vedere subito la prossima missione parallela. Allora, nuove mappe, ok. Allora, abbiamo fatto il primo allenamento di Freezer, la sedia di Freezer alla terra, spazio in abbondanza. Quindi ragazzi dovremo sconviggere Junior, Gohan, Vegeta Super Saiyan Good, la stessa cosa di Goku e Beelze. E questo qua è un po' difficile. Beelze combatti mentre vissi osservi. E questo qua è un po' difficilotto, quindi mi tocca stare un po' attento. Ok ragazzi, noi ci vedremo subito in battaglia con la spazio in abbondanza. Ok, iniziamo subito. Spazio in abbondanza. Sconviggi Beelze, è una parola. Ok, come amico ho Freezer dorato e Vegeta Super Saiyan Good. Allora, metteremo anche le cuffie qua. Ok, andiamo qui. Per adesso abbiamo Pils che ci aiuterà nella battaglia. Ecco il primo nemici, piccolo. E Gohan. Ma che ce l'hanno tutti con me? mi fa via. Del corpo dai. Perfetto, facciamo una super sfera Genkidama. E voilà. Ok, ho colpito tutti e due, su me sbaglio. Meglio ancora. Un'altra super sfera Genkidama ragazzi. Ci togliamo di venti in tram. Ehi, calma ciccio. Prende questo là. Sì, va. Sì, va. Ma viene qua. Ma chi è che rompe le scatole? Ma super sfera Genkidama. Via. Ecco qua. Cos'è di questo? Piccolino. Ah, che attacco di Gohan! Cosa ho fatto? Non ho fatto un attacco del gene Ah si L'ho fatto Dai prendilo Eh manca poco Ok ciao piccolo Adesso toccherà a Gohan Ok super sfera Genkidama anche per lui Et voilà No non l'ho preso mannaggia Eh stai per terra Facciamo così una super Tana mia E così l'abbiamo sconvitto Ok qui abbiamo finito Adesso dovremmo andare No vediamo eh Dovremmo andare qui Allora super sfera Genkidama Ok ragazzi qua è già un po' più difficile Che ci sono super sfera Gohan Super sfera Genkidama Ecco è già stato annulato Mamma mia E l'abbiamo preso entrambi Ma una parola oh Ok dai facciamo un'altra super sfera Genkidama Eh no Quando ho di quando viene E viene presa Andiamo all'attacco allora Dannazione Ok abbiamo colpito in pieno Cos'è Beats? Spero di passaggio Oh non ci credo nessuno Vero? Oh non ci credo nessuno E certo non ci credo Come la c'è in mezzo alla battaglia Stronti grandi e altri Allora dove è andato? Vieni qua Scappasendo Un bel colpo Ok Ok Ah Goku Una bomba Scatola anche tu Vieta Tu vuoi stare fermo? Oh colpiamolo Oh io almeno Ma basta l'ultimo colpo E vedete se ne va Tutto dritto a cimile Vai ecco qua Finish Adesso toccherà a Goku Ok 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 Eh che cavolo Carichiamoci un pochettino Va Faremo una super sfere Kenkidama Così Cosperiamo Go Continuo E voilà Neanche l'abbiamo colpita Mamma mia ragazzi Facciamo così Vagin' Mag Mamma mia che luck Stava bloccando Non so come No super sfere Kenkidama Via E voilà Ok ragazzi Abbiamo vinto Sicuramente Manca poco E' finito Infatti Ah Beals Odio Beals E qua ragazzi E' un po' difficile E' difficile E' difficile Già Ve lo dico Adesso Ho una super capsule Energia Z Per caricare Me e i miei Alliati Ok E' bello Che Vizzi Si è pure Parata Mamma mia Già con due colpi Già Vedete La La Stesa Per terra Ma non gli faccio Nulla Non gli faccio Nulla Ma è una super sfere Kenkidama Ma dai Oh cavolo Non ha fatto Le due sfere Si scontrano Ragazzi Mamma mia Mai visto Super sfere Kenkidama E' una super sfere E' una super sfere E' una super sfere Spera E' una super sfere mamma mia come fa per assolo sempre un altro spero che in chiama ha troppa energia e troppo forte per insieme e abbiamo solamente 3 minuti non so se ce la faccio anche oh mamma con un colpo mi ha steso a me se mi ricarico un pochettino oh no energie aiutiamo aiutiamo meno male va che culo caps energia via scappa qua è questione di sopravvivenza ragazzi porca miseria ragazzi ci sta prendendo pure per il culo lui cioè non facciamo nulla praticamente nulla facciamo una super sfere che in kidama manca 2 minuti ormai mamma mia ok l'abbiamo preso va l'abbiamo preso ancora l'importante è prendere però manca solamente 1 minuto e 50 secondi allora facciamo così super sfere che in kidama così lo distraiamo un po' l'abbiamo preso oh cavolo ok vai attendiamolo in pieno no così no anche testa e cuccia lì facciamo una super sfere che in kidama dai gero preso dai mamma mia ma è una super sfere che in kidama oh cavolo anche lui l'ha fatto ma secondo me non ce la facciamo raga manca pochissimo ancora vuole farlo oh mamma mia se ci vediamo pure il microfono 30 secondi manca poco si ce l'ho fatto ragazzi 18 secondi ok vediamo se abbiamo sbloccato qualcosa niente ok ragazzi nel prossimo video vi farò vedere un'altra missione parallela in cui si definisce veramente veramente un po' più difficile rispetto a quelle che abbiamo fatto in questi video quindi ci saranno altre due missioni che sono veramente difficili adesso vedremo se riuscirò a farvelo vedere e vincere in battaglia insieme a voi ok ragazzi questo è tutto se il video vi è piaciuto pollicello in su commentate e condividete e noi ci vediamo nel prossimo video niente ciao ciao ciao